presentiamo glc 300d e 4 matic plug in hybrid allestimento premium caratterizzato da amg line vernice metallizzata argento high tech e pacchetto night che colora in nero lusso man correnti bordature dei cerchi e cornici dei finestrini questa tecnologia plug in unisce un motore gasolio 1950 centimetri cubi di cilindrata con 194 cavalli e un motore elettrico che invece eroga 122 cavalli e si arriva in totale nelle modalità combinate a 306 cavalli per un'accelerazione da 0 a 100 in 6 secondi e 2 e 230 chilometri orari la velocità massima l'assetto prevede cerchi da 20 pollici amg con sospensioni airmatic di serie adattive in base alla velocità alle condizioni del fondo stradale e ai setup di guida selezionale la batteria è da 13,5 kilowattora e permette un'autonomia fino a 45 chilometri in modalità solo elettrica si ricarica sia compresa asciuco in una notte sola sia con cavo di ricarica per colonnine che arriva fino a una potenza di 7,4 kilowattora anche negli interi troviamo lo stile amg con sedili in pelle microfibra con regolazione lombare e regolazione semi elettrica della seduta volante sportivo applettito nella parte inferiore tappetini firmati amg da notare gli inserti e la console centrale che sono in legno di quercia antracite a poro aperto da dove possiamo modificare setup di guida e anche altezza delle sospensioni il sistema di infotainment è lmbx con quattro strumenti digitale davanti al volante e schermo da 12 pollici nella parte centrale tutte le funzioni telematiche si possono controllare sia con funzioni touch sia con l'assistente vocale basta dire hey mercedes e subito è pronto a rispondere hey mercedes ricerca stazioni di ricarica vicino alla destinazione ho trovato questi risultati dove vuoi andare grazie al servizio di ricarica sul suolo nazionale di mercedes mi charge ma anche a live traffic information e alla car 2x communication di questa vettura noi possiamo facilmente ricevere informazioni riguardo il traffico i percorsi che andiamo a affrontare e calcolare i tempi di arrivo ma anche i possibili tempi di sosta una volta arrivati a destinazione presso una colonnina o eventualmente in caso di incidenti o rallentamenti cambiare facilmente percorso per arrivare in tempo a destinazione venite a scoprirla nelle nostre concessionarie grazie a tutti